Salve, capita spesso su internet ma anche nella vita reale di vedere degli esperti di religione, di bibbia, di scritture, affermare che poi alla fine queste scritture non sono soltanto sacre, quindi in qualche modo trascendono dalla realtà, sono trascendenti dalla realtà, ma addirittura hanno anche dei fini pratici. Questo per i biblisti e i religiosi è un passo molto molto rischioso perché a differenza della fede che è assolutamente personale e inopinabile su cui non si può discutere, quando si entra nell'ambito della scienza, addirittura della matematica, le cose diventano molto più difficili da nascondere o non si può più fare diventare un problema di opinione o assolutamente personale, diventa un fatto universale, diventa un problema anche di non contraddizione, poiché rispetto alla fede la realtà non ammette una contraddizione in una cosa o in un modo o in un altro, o misura così o misura colà. Vediamo per esempio cosa dice un signore che si dedica alla traduzione della Bibbia, afferma ad un certo punto che la Bibbia dice sempre la verità. In particolare lo dice riguardo a un'interessante discussione sulla Genesi. La Genesi dice, addirittura contiene la formula E uguale a MC quadro, M, sappiamo l'energia, è uguale alla massa per la velocità della luce C al quadrato. Parla infatti che la Genesi parla di luce, parla di mondo, quindi lui dice di massa, parla di energia, quindi facendo questo parallelo dice, la Bibbia dice sempre la verità, tanto è vero che tra le affermazioni che fa la Bibbia c'è anche la famosa formula usata ed abusata, direi, di Einstein, E uguale a MC quadro. Dicevo, quando la fede entra nel campo scientifico, la fede stessa spesso si mette nei guai. Vediamo perché. L'affermazione, la Bibbia dice sempre la verità, si traduce in logica, ma nello ragionamento anche comune, in questo modo. Vediamo che B sia l'insieme di tutte le cose che possono essere dette nella Bibbia, tutte le proposizioni della Bibbia. Se X è una proposizione della Bibbia, allora X è vera. Quindi se X è un'affermazione che si trova all'interno della Bibbia, quindi X è vera perché dice sempre la verità. Noi sappiamo cos'è la dimostrazione per assurdo. Noi sappiamo che quando noi diciamo che A implica B, possiamo anche dire che non B implica non A. Per esempio, se A dice io sono umano e B dice io sono mortale, allora A implica B significa io sono umano, quindi io sono mortale. Per dimostrarlo, dimostro questo, dimostro il suo opposto che è esattamente equivalente, cioè non sono mortale e quindi non sono umano. Allora, vediamo come si può scrivere non B implica non A. Questo è A, questo è B, non B e non X implica non A, cioè non A, mettiamo una parentesi, X incluso in B. Qui non abbiamo fatto niente di straordinario, abbiamo soltanto formalizzato questa frase e abbiamo detto che cosa significa. Cioè se a un certo punto X diventasse falsa, allora X non potrebbe essere incluso nella Bibbia. Non X incluso nella Bibbia. Il problema è che nella fisica qualsiasi modello, come ad esempio questo della relatività distretta, viene superato. Ad esempio il modello di Einstein supera il modello della meccanica classica. I modelli successivi ad Einstein probabilmente supereranno il modello di Einstein. Superare in fisica significa che ci sono degli ambiti in cui questo non è vero e quindi siccome la formula deve essere universale, se c'è un momento, un luogo, un punto dell'universo in cui questo non è vero, significa che la formula non è vera, perché non sapremo più quando poterlo applicare o no. Quindi prima o poi questa formula sarà diciamo superata da un altro modello più generale, molto probabilmente. Quindi avremo il verificarsi di questo. Cioè avremo proprio il verificarsi che questa affermazione che si dice essere nella Bibbia, alla fine si dimostrerà, essendo falsa, che a quel punto non potrebbe più essere contenuta nella Bibbia. E questa è un'evidente contraddizione, perché si è detto che è dentro. Quindi cosa voglio arrivare a dire? Semplicemente che le questioni di fede devono rimanere questioni di fede. Ed è giusto che sia così, è giusto che siano delle opinioni, è giusto che sia opinabile, è giusto che si possa anche discutere per anni, ma poi alla fine ognuno abbia il diritto anche di poter rimanere della propria opinione, della propria fede. Il problema è quando la fede, è quando le scritture, la sacralità, entra nel campo del pratico. Ho fatto un video su, per esempio, le apparizioni mariane che stranamente non hanno poi nessun effetto misurabile sulla realtà. Ecco, quando si parla di fenomeno, quando si parla di modelli fisici, si entra in un campo in cui la fede e l'interpretazione non ha più una, diciamo, grande possibilità di sfuggire da un problema di contraddizione. E quindi è importante che, quando si parla di ambito religioso, di fede o di convinzione sulle tante personali, si capisca che spesso è molto, molto rischioso entrare in un campo che è quello invece della fisica, della matematica e della logica. Grazie.